Voltiamo decisamente pagina, andiamo in Arabia Saudita dove gli uomini adesso per divorziare dovranno almeno inviare un SMS. Doriana Araia. Dicono che non ci sia divorzio più rapido che in Arabia Saudita dove i mariti mettono fine al matrimonio, solo loro, non le donne, o pronunciando per tre volte la parola talak che vuol dire tiripudio o soprattutto segretamente all'insaputa delle mogli. Da oggi parte la separazione via SMS e incredibilmente si tratta di un passo avanti nella tutela dei diritti, visto che nei casi di divorzi segreti si impediva alle donne lasciate dai loro uomini di poter chiedere gli alimenti. Da oggi le donne saranno avvertite con un messaggino. Molte saudite avevano chiesto ai tribunali di essere messe al corrente delle sentenze di ripudio che le riguardavano. Una decisione che si inquadra in una serie di riforme sociali varate nel paese, tra cui la possibilità di guidare. Ma non si placano le polemiche legate alla finale della Supercoppa Italiana di Calcio, che si giocherà a Jedda il 16 gennaio, perché le donne sole avranno allo stadio un settore separato da quello degli uomini, ma anzitutto perché l'Arabia Saudita è accusata di aver organizzato l'omicidio del giornalista Cassoggi. Grazie a tutti.